Sempre qui a Serravalle, altri spazi inutilizzati, siamo sempre sulle rive dell'Arno, qui orti sinergici urbani a chilometri zero, bello spazio, qui c'è le rive dell'Arno, c'è la mila metri quadri, è fantastico, c'è un bel area di platani e questo è tutto lo spazio, fino ad arrivare all'Avis, la chiesina, oggi anche sede dell'Emergency. Orti sinergici urbani, spazi, beni comuni, non hanno bisogno di autorizzazioni.